Buonasera cari amici, bentornati al nostro appuntamento di ogni venerdì con la Previdenza e dintorni. Stasera affrontiamo con Roberto Bianco, il direttore del patronato Epa, che abbiamo arrivato, il discorso degli infortuni. Gli infortuni purtroppo sono un argomento all'ordine del giorno, se leggiamo i giornali ci rendiamo conto che a volte ne avvengono molti, alcuni anche di una gravità piuttosto importante. Ecco Roberto, cos'è un infortunio? Come lo definiamo un infortunio? Perché abbiamo l'infortunio che avviene in attività lavorativa, abbiamo anche gli infortuni per le casalinghe, come possiamo definirlo? L'infortunio è un accadimento, un evento violento, inaspettato, che ti provoca un danno. Quindi, non so, per fare un paio di esempi, se sono un lavoratore edile, cado da una scala, mi produco un danno, questo è un infortunio sul lavoro. Se sono un coltivatore diretto e scivolo nella stalla, batto a terra, questo è un infortunio sul lavoro. C'è un qualcosa che capita in modo inaspettato al quale non riesco a reagire, che mi provoca un danno. però. E se sono una casalinga che verso i contributi, anche io posso essere risarcita? Sì, esatto, è prevista da un po' di anni anche l'assicurazione INAIL, intanto diciamo che è l'INAIL che tutela gli infortuni che accadono nel lavoro. C'è in questo caso anche l'assicurazione casalinghe INAIL che prevede l'indennizzo degli infortuni che possono accadere in casa e quindi è un'assicurazione tra l'altro che ha un valore, un costo molto basso, quindi è consigliabile anche farla, ecco, molte volte non lo sanno, però costa poco e comunque è una tutela importante, anche perché in ambito domestico ci possono essere anche infortuni gravi. L'importante. Ho sentito parlare l'altro giorno, ho letto anzi meglio su un giornale, di una polemica legata agli infortuni in itinere, cioè quelli che succedono per strada e la disquisizione era, io sto andando a lavorare, sto recandomi sul posto del lavoro, ho un incidente automobilistico dove ho torto e mi viene risarcito dall'INAIL questo infortunio oppure no? Allora, sul discorso di infortuni in itinere c'è stata in realtà la giurisprudenza, quindi più sentenze della Cassazione che hanno disciplinato e hanno anche interpretato in modo più favorevole per il lavoratore questo infortunio in itinere, che peraltro rappresenta una grossissima percentuale di infortuni, visto che comunque molti utilizzano i mezzi, allora in realtà l'infortunio in itinere è indenizzabile perché nel momento in cui io vado da casa mia al luogo di lavoro sono coperto dall'INAIL. Il discorso un po' è legato ai mezzi che utilizzo, è chiaro che di regola viene fatta anche una verifica da parte dell'Istituto Nazionale degli Infortuni per capire se il soggetto poteva utilizzare un altro mezzo rispetto alla macchina, però sappiamo benissimo che molto spesso la macchina è un mezzo necessario, specie quando magari devo fare degli spostamenti lunghi, per cui è un infortunio che viene indenizzato e rappresenta ad oggi penso la percentuale maggiori di infortuni indenizzati all'INAIL. Una curiosità o in mezzo a tutta questa cosa tecnica, gli infortuni in generale sono in aumento o in diminuzione? Allora gli infortuni sul lavoro dipende dai comparti produttivi, però sono negli ultimi anni in riduzione. Quindi è una cosa positiva? Sicuramente è stata fatta una grandissima attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro, quindi questo è agevolato. Un po' è dovuto anche al fatto che c'è stata anche una riduzione del lavoro, quindi bisogna sempre leggere l'indice infortunistico. Non è sempre positivo insomma. Non è sempre positivo, però sicuramente sono stati fatti dei grossi passi avanti negli ultimi anni, gli infortunisti sono ridotti. Quando uno subisce un infortunio ha due tipi di prestazioni, che è l'indenità temporanea e il danno biologico. Cos'è l'indenità temporanea? L'indenità temporanea praticamente è la liquidazione di una somma che sostituisce il fatto che non posso lavorare, quindi una rendita giornaliera, un pagamento di una cifra che mi copre... Una retta giornaliera? Sì, diciamo una sorta di stipendio che mi viene pagato perché non lavorando comunque ed essendo un lavoratore assicurato ho diritto a ricevere... Questo solo per i lavoratori dipendenti? Questo qua no, c'è anche per i lavoratori autonomi ovviamente, per il lavoratore autonomo nel momento in cui non lavora ha anche diritto ad avere questa... Deve essere esercizi, da dire una provocazione, no? Ci mancherà un'altra. Quindi l'indenità temporanea è poi questo danno biologico. Cos'è il danno biologico e quando viene riconosciuto e in che entità, eccetera? Il danno biologico è una parte di indennizzo che invece riguarda il fatto che l'evento infortunio mi ha provocato un danno più grave. Cioè cado da una scala e... E mi spacco una gamba, per esempio. E questa gamba continua ad avere poi dei problemi. Esatto, esatto. Allora questo danno viene quantificato appunto con le tabelle del danno biologico. Se un danno che è superiore al 6% mi viene pagato una somma, una cifra da parte dell'Inail, se supero il 15% vado addirittura in rendita. Quindi la soglia minima è il 6%. Sì, esatto. Poi dal 6 al 15 mi liquidano in unica soluzione a seconda del grado di danno che mi è rimasto e oltre al 15 invece è una sorta di pensione. Esatto. Cioè la rendita adesso... Sì, è una rendita che viene pagata mensilmente, che viene rivalutata nel corso degli anni e che quindi ovviamente va a indennizzare quelli che sono i danni più gravi. Una cosa molto importante che voglio dire è che a fronte di una domanda di riconoscimento del danno biologico che si fa tramite il patronato EPACA, bisogna sempre considerare il fatto che il danno va poi valutato anche successivamente. Cioè se il milione ha riconosciuto un 5%, faccio un salto negli uffici dell'EPACA e va autose con il 5% corretto perché con un 6% potrei andare ad indennizzo. Quindi non fermiamoci mai solo alle comunicazioni e alle valutazioni dell'istituto, ma andiamo sempre a fare una verifica più. Perché pur essendo lì in un istituto molto serio, molto rigoroso, a volte questo rigore è un tantino anche eccessivo, è una cosa che dico io, non voglio coinvolgerti. E quindi il verificare se quell'indennità che mi viene corrisposta, quella rendita, è davvero una rendita equa rispetto a quello che il danno che ho avuto, è bene sempre verificarlo. Esatto, è bene verificarlo ed è bene anche verificarlo successivamente perché l'indennizzo dell'infortunio non si ferma a quel valore che mi viene dato in quel momento. Ma se io nel corso degli anni ho una situazione di peggioramento, sempre per quel evento lì posso fare una domanda di aggravamento, quindi chiedere che quel danno sia rivautato e questo posso farlo nei primi dieci anni. Quindi è una tutela, diciamo che la tutela infortunistica in Italia è una tutela molto importante e che non bisogna mai sottovalutare. L'Istituto Nazionale degli Infortuni comunque è un ente che lavora, lavora specie nelle nostre zone molto bene. Bene, certo. Se io ho un infortunio e mi viene riconosciuto il 3%, quindi ottengo zero niente, non mi viene riconosciuta la rendita, ma se dopo tre anni, mettiamo, io ho un altro infortunio e mi viene riconosciuto il 4%, i due infortuni si possono sommare e quindi arrivo al 7% o come funziona? Allora, in realtà non è una somma matematica algebrica, però 2,20 posso sommarle, ovvero posso valutare il danno complessivamente. Quindi se io per esempio ho 3 punti per un infortunio e 4 punti per un altro infortunio, potrei arrivare per dire 6, non arrivo matematicamente al 7, ma posso arrivare a un punteggio che mi dà l'indennizzo. Quindi questo bisogna considerarlo. Anche fare un ricorso per pochi punti, a volte ha un senso, perché poi se un infortunio successivo o per esempio una malattia professionale, a quel punto lì sommando potrà arrivare degli indennizi anche importanti. Bene, quindi il patronato Epaca è a vostra disposizione, 3 sedi a Cuneo, tanti sedi su tutto il territorio provinciale, a disposizione, essendo l'Epaca collegata a Coldiretti e a disposizione solo dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli o anche di altre categorie di persone. Diciamo che da anni l'Epaca si rivolge anche a altre attività lavorative, quindi a altri comparti. È chiaro che ci coccoliamo sempre i nostri coltivatori ovviamente al massimo, però ormai da anni facciamo un'attività di tutela a 360 gradi. Ok, grazie mille Roberto Bianco e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre dopo il TG.